Mostardino.it Rocco Chinnici caduto nel tragico attentato mafioso del 1983 e dalla quale ha tratto questa passione per la legalità che l'ha portata a proseguire la carriera di magistrato del padre. Ecco noi questa sera siamo qui con lei a Carpi per presentare il suo nuovo libro dal titolo E' così lieve il suo bacio sulla fronte che parla appunto di suo padre. Ecco nella sfera più privata affettiva che anche in quella pubblica di magistrato. Ma guardi io con questo libro che poi in realtà è il mio primo libro ho voluto ricordare la figura di mio padre sotto appunto un doppio profilo intanto come padre perché nonostante il suo lavoro nonostante il suo impegno nonostante l'attenzione che il suo lavoro ha procurato e il rischio che purtroppo diventava ogni giorno diciamo più concreto. Mio padre ha saputo sempre essere presente nella vita di noi figli dandoci serenità e dandoci sicurezza e quindi diciamo è stata una presenza fondamentale nel nostro percorso di crescita quindi ho voluto ricordarlo come padre. Ho voluto ricordarne l'umanità che conciliava in un equilibrio assolutamente perfetto con quel rigore nell'applicazione della legge che invece lo contraddistingueva come magistrato. E poi ho voluto ricordare il magistrato perché Rocco Chinnici è stato detto, è stato ricordato ma forse non adeguatamente è stato quel magistrato che per primo ha avuto una conoscenza vera del fenomeno mafioso e che ha avviato un vero e proprio cambiamento della cultura giuridica con quell'idea che dopo la sua morte è diventata il pull antimafia, con il sostenere la legge allora, la legge Rognoni e la Torre che consentì le prime indagini bancarie e soprattutto con quella intuizione di andare nelle scuole e parlare con i giovani per far cambiare la cultura. Ecco proprio per questo dopo tanti anni di lotta alla mafia a che punto crede che sia arrivata in Italia la lotta alla criminalità e specialmente la criminalità organizzata. Ma guardi mio padre che aveva veramente avuto delle grandi intuizioni legate sicuramente ad una conoscenza davvero approfondita del fenomeno, già 30 anni fa diceva che la mafia ha la singolare prerogativa di trasformarsi rimanendo sempre se stessa. Indubbiamente oggi la mafia non è più quella militarizzata che spara nelle strade, sì ancora ci sono degli episodi ma non è più certamente solo quella. È una mafia che cerca di agganciare tutti i centri del potere, di infiltrarsi nella politica, nel mondo degli appalti, dei grandi appalti, nel mondo della finanza. Però oggi noi sicuramente rispetto a 30 anni fa abbiamo una legislazione specifica che ci consente di perseguire in maniera più efficace questi reati, abbiamo quella evoluzione di quella prima legge Rognoni e la Torre che oggi ci consente di confiscare i beni ai mafiosi e di restituirli alla collettività. E poi abbiamo, questo lo dico veramente con piacere, una generazione di giovani che è molto più sensibile rispetto a questo tema di quanto non fosse allora. Quindi quella sollecitazione al cambiamento della cultura andando nelle scuole credo sia stato uno dei momenti dell'impegno di mio padre che ha prodotto gli effetti più significativi. Certo, e dato che comunque il fenomeno mafioso e quello criminale in generale si è ultimamente molto internazionalizzato, ritiene necessario quindi una maggiore cooperazione e collaborazione in ambito non solo nazionale ma anche europeo, dato che abbiamo l'opportunità di sfruttare il semestre europeo a conduzione italiana? Beh sì, indubbiamente, e devo dire che anche questa è stata una delle motivazioni che mi ha spinto ad accettare l'idea di una candidatura per trasferire il mio impegno dal nostro territorio, dal nostro paese in ambito europeo. Perché sono convinta, ed è stato dimostrato e diciamo ormai ben dimostrato che la criminalità mafiosa ha ben travalicato i confini del nostro paese, è ormai un fenomeno transnazionale e allora occorre veramente che ci sia da parte di tutti i paesi europei un impegno per una legislazione condivisa che sia efficace. E l'Italia in questo è già stato punto di riferimento in ambito europeo perché ha introdotto delle categorie giuridiche che in altri paesi non erano conosciuti. Ma bisogna continuare a lavorare in questo senso, lavorando per esempio soprattutto per diffondere le normative sulla confisca dei beni dei mafiosi, perché sappiamo che spesso questi beni si trovano in altri paesi e allora ci vuole una cooperazione vera e reale, così come c'è l'idea della procura europea che sicuramente può essere un organo giudiziario sovranazionale che può consentire di coordinare le indagini fra diversi paesi. Quindi su questa strada bisogna continuare a lavorare e su questa strada spero di poter lavorare nel Parlamento europeo.